Nuovi investimenti da parte dell'ANAS per la riqualificazione del percorso E45 e E55 orte mestre, nell'ambito del progetto di manutenzione straordinaria che implica l'assegnazione complessiva di 1,6 miliardi di euro per il risanamento profondo della pavimentazione, viadotti e gallerie, l'ammodernamento dei guardrail, l'adeguamento degli impianti tecnologici ed altri interventi per il miglioramento della sicurezza della circolazione. ANAS ha presentato tre gare d'appalto dal valore totale di 169 milioni di euro in riferimento ad interventi di manutenzione per i prossimi tre anni in Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, i quali si assomano ai 55 milioni di euro per il ripristino della pavimentazione, attualmente in corso di assegnazione. Sull'argomento è intervenuto il presidente di ANAS, Gianni Vittorio Armani, sottolineando di come si tratti del più importante investimento mai destinato a questa infrastruttura, in linea con la nuova strategia di ANAS che punta sulla manutenzione e sulla valorizzazione della rete stradale esistente, al fine di innalzare il livello di servizio e gli standard di sicurezza per la circolazione. Armani ha inoltre posto l'accento sull'importanza dell'itinerario E45-E55, definendolo strategico e con flussi di traffico in costante aumento, mettendo poi in evidenza il fatto che costituisce l'unica direttrice nord-sud del paese senza pedaggio ed il percorso principale verso i paesi dell'est Europa. Grazie a tutti.